Avanti il prossimo! Buongiorno! Buongiorno! Lei si chiama? Roberto Balle Prontissimo Prego Non o Prego Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E guardi mi scusi ma più che la morte del fericottero a me è sembrata la morte dell'ippopoto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti